A due mesi di distanza arriva anche la seconda TAC all'ospedale San Donato di Arezzo. Acquistata con fondi PNRR Next Generation è stata conclusa pochi giorni fa, infatti la fase di formazione del personale addetto. Cambia fondamentalmente l'offerta che possiamo dare alla popolazione, quindi fino a sei mesi fa avevamo due TAC sicuramente tecnologicamente molto inferiori, soprattutto la prima che è stata cambiata perché avevamo una 16 strati, qua parliamo di 128, quindi già il numero ci fa capire qual è stato il salto tecnologico, il salto di radiazioni che vengono date molto meno rispetto al passato e quindi sicuramente dare un'offerta maggiore ai pazienti all'interno dell'ospedale sarà quello il nostro obiettivo, farle lavorare entrambe con volumi più ampi rispetto al passato. A livello numerico infatti cosa cambierà? A livello numerico è già un raddoppio degli esami rispetto a questi ultimi sei mesi, la TAC che c'era prima lavorava la metà di quanto può lavorare questa macchina qua perché erano a 16 strati, si riscaldava e quant'altro e quindi qui abbiamo invece la possibilità di far lavorare entrambe le TAC con gli stessi tipologi di pazienti, quindi diciamo ci aggireremo in una media più o meno tra i 20 e i 25 esami a giorno a macchina, quindi significa una cinquantina di esami al giorno, poi se facciamo i raddoppi logicamente l'offerta sarà notevole. La spesa per l'acquisto della nuova strumentazione è stata di oltre 500 mila euro, risorse che hanno finanziato la fornitura dell'apparecchiatura ma anche i lavori di ristrutturazione per l'adeguamento della sala che ospita la nuova TAC. Sì, infatti a corredo della sostituzione tecnologica che chiaramente è l'obiettivo principale che è stato raggiunto in questi mesi, abbiamo pensato di garantire anche un'umanizzazione del percorso, in particolare delle sale d'attesa, di renderle meno asettiche, meno da ospedale, diciamo così, più umanizzate, più familiari, quindi garantire un'accoglienza del paziente più piacevole per quanto possibile ad un paziente che viene comunque in ospedale. Quindi garantiremo un rinnovamento generale di tutta quest'area di diagnostica pesante del San Donato.